ciao a tutti ragazzi e ben riservati qua sul mio canale e qui sono look of gamers 7 tv e oggi siamo tornati con un nuovo gioco molto molto bello è il terzo gioco più popolare di di italia no mannaggia eh si faccio schifo lo so ma è complicatissimo si può darsi che lo cancellerò e non e non vedremo e non vedremo più questo gioco fidatevi che faccio schifo oh mamma ma naggia no 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 ok ragazzi lo disiniscarlo questo gioco bene 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 questo gioco è di sonic è veramente bello me lo consiglio intanto io ho messo questo qui il pennello no è troppo figo è troppo figo perché tu puoi scegliere il colore e questo qui scrive troppo bello troppo bello poi ovviamente per cancellarlo fai così è buon perfetto e poi c'è il gif che no perché l'ho messo no 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 ragazzi lasciamo perdere il gif tanto lo elimino perfetto praticamente tu sei uno di questi personaggi in realtà ce ne sono tantissimi di personaggi e praticamente una gara una gara e deve arrivare il primo secondo il terzo quarto si per il primo e secondo ti danno dei premi e poi devi avere più trofei insomma è bello allora vediamo vediamo un po intanto mi è andato a finire ok che quello qua stavo già perdendo l'icona intanto magari se si sbriga mi farebbe un grande piacere grazie ragazzi aspettate un secondo ok finalmente si è mosso adesso allora già si mi sono preso questo forse sì perché sono arrivato terzo sono arrivato terzo e ti danno dei trofei su quanto sei arrivato primo secondo terzo insomma vedete questo super coso non lo so ecco questi qui sono i miei corridori ho omega con un class sonic classico silver e sonic questo sonic è il mio è il mio preferito però omega è veramente veramente una bestia ora corriamo con omega anche se la sua velocità e la sua accelerazione non è il massimo però comunque i poteri magici ce ne ha e noi a quello interessa poi giochiamo con silver insomma con tutti i nostri gareggiato e giochiamo signore e signori allora sperando di vincere e arrivare primi e non fare non fare qualche fail ma come cavolo fate ad avere già quelli rari ma che è impossibile no no è veramente impossibile è veramente impossibile in qualcosa che non capisco come cavolo fanno a prendere quelli già rari intanto questo qui omega super 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 figo super grande volevo dire allora vediamo di aprire questi cose dovete prendere questi cosi per fare così perfetto sono primo perché ho messo quello tutti sono morti diciamo non è che sono morti diciamo non è che sai mannaggia a te mannaggia a chi ti ha inventato bene lanciamo questo oh mannaggia sono un ghiaccio perfetto velocità per noi no cos'è 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 vuol dire no son tornato indietro mannaggia tu no sono stupido sono morto su una mia stessa cosa no son tornato indietro sapevo che andiamo a finire così no son tornato indietro oh mamma io avevo questo no terzo mannaggia lo sapevo che arrivavo terzo sì anche questo gioco è bello devo dire sì mi sa che lo devi installare questo gioco e giocarci sì perché mi piace poi adesso te lo fanno anche provare dai raga una cosa del genere dai troppo troppo bello troppo bello cioè è bellino questo gioco sì però dopo un po' diventa noioso no ma io sono stupido allora vabbè lasciamo perdere terzo posto meno due torfei più 15 monete terzo posto abbiamo ah mi manco tutto vabbè va bene va bene va bene noi ci accontentiamo adesso giochiamo con sonic classico oppure io dico con clung glass questo qua che è veramente forte a 9 di forza o 10 non mi ricordo o 9 8 non mi ricordo con quelle statistiche stoppate il video andate a vederle insomma ragazzi se vi ricordo che se volete andare andare se volete che continui questa fantastica serie lasciate mi piace e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto mettete la campanellina per ricevere tutte le notifiche ovviamente questo gioco è con il wifi perché si gioca online e dai e vamos dun 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 mi da tipo la super forza non ho capito cosa vuol dire ma questa è la sfera infuocata me la tengo per fare del male a questa oh mamma mia che cosa mi ha colpito qui adesso devo fare attenzione mannaggia tua mannaggia vostra anzi prima ero primo sono stupido no mannaggia oh questa mappa non sono mai arrivato prima in questa mappa è proprio maledetta per me cioè parto benissimo e finisco malissimo dai questa qui questo qua si è grande grande lo so stupido io terzo di nuovo terzo no raga è impossibile no è impossibile se tutte le volte arrivo terzo giuro che mi arrabbio no ma con sony si arriva anche terzo con sony che è proprio è proprio è proprio il gioco perchè c'è tre volte il gioco io stavo per arrivare ai 300 trofei ma ovviamente ho perso e boh ma in realtà qui non è che c'è proprio tanto cioè non c'è da fare proprio tanto cioè non è che se arrivi a tot trofei vinci qualcosa no non vinci niente quello è il bello e dai che pizzo sei di nuovo bloccato ma poi c'è oh il wifi dai oh mamma ragazzi aspettato un secondo ok ci dovremmo essere oh ma sempre ami beh proprio me la vogliono far sbloccare amichi mi manca veramente poco bene ora andiamo con silver che è il mio secondo no il mio terzo preferito il mio primo è sonic il mio secondo è omega e il mio terzo è silver e il mio quarto eh vabbè lasciamo perdere allora siamo secondo con 278 trofei oh mamma mia quello lì mi fa paura l'ultimo dai silver per non mi deludere mi ha già deluso mannaggia ma stai da quello da quella oh mamma dai se arrivo 4 con silver non va bene e dai non è possibile no ma sono stupido ma ho perso di tantissimo non ci credo è di nuovo così è è rosa Sì Ciao Grazie